Ciao ragazzi, rieccoci di una nuova video recensione, questa volta vi andò a recensire questo prodotto che è un multimetro della TACLIFE, quindi questo qui è il marchio, il modello specifico è il DM02A Allora, il multimetro cos'è? È uno strumento che si usa in campo elettrico ed elettronico per effettuare misure quindi di corrente elettrica continua o alternata fondamentalmente Questo multimetro è molto ben fatto perché possiede tante funzioni, quindi adesso le andremo a esplicare rapidamente Allora, questo è l'apparecchio come si presenta, quindi classico strumento, display elettronico di discreto formato, belleggibile e volendo anche retroilluminato, vi faccio vedere al volo, mantenendo premuto il tastino si accende forse con la recensione non sarà facile vederlo, comunque diventa bianco per retroilluminarsi e quindi vederlo al meglio al buio Ghiera, funzione per selezionare appunto la modalità di utilizzo due tasti premibili, quindi il tasto function e il tasto hold che funziona anche per la luce e in basso abbiamo i tre connettori per andare a collegare i puntali in dotazione Questa è la scatolina con cui vi arriva, quindi scatolina classica c'è un piccolo manuale di istruzioni multilingua e c'è anche l'italiano ma è tradotto veramente in maniera pessima quindi non ve lo consiglio perché appunto la traduzione è piuttosto spartana diciamo L'apparecchio possiede tante funzioni, quindi è in grado di misurare i volt sia in corrente continua che in corrente alternata la resistenza quindi gli ohm, inoltre funziona anche per testare la continuità di eventuali piste, cavi e quant'altro quindi andando a toccare i puntali fra loro emette un bip sonoro in più è in grado di testare eventuali diodi e quant'altro grazie a un piccolo flusso di corrente per vedere appunto il verso, se è appropriato o meno del diodo insomma quindi vedete c'è il classico simbolino ha inoltre la funzione di tester diciamo di tensione quindi la parte alta funziona come rilevatore di tensione e passandolo vicino alle prese, quindi questa parte qui vicino alle prese, cavi e quant'altro vi va a segnalare l'eventuale passaggio di corrente è in grado inoltre di misurare gli hertz, quindi la frequenza della corrente e in più funziona anche l'amperomer, quindi ha qui le ultime tre funzioni servono per andare a misurare picco ampere, mili ampere oppure veri e propri ampere quindi diciamo è uno strumento piuttosto completo e davvero ben fatto il costo tra l'altro è abbastanza contenuto quindi secondo me è un buon acquisto, soprattutto magari non per un professionista ma più per chi come me magari fa qualche lavoretto domestico, di elettronica, riparazione e quant'altro per avere uno strumento che non costa tanto ma che funziona decisamente bene comodo il fatto che abbia anche il piedino per metterlo in posizione averlo quindi a portata di mano o comunque garantire una buona lettura mentre si utilizza inoltre molto ben fatti i puntali, quindi sono ben isolati sono protetti a entrambe le estremità con dei cappucci, quelli che sto togliendo adesso eccoli qui e devo dire il cavo è di una buona sezione anche perché questo strumento è in grado di leggere anche potenze abbastanza rilevanti, quindi giustamente la sezione deve essere abbastanza spessa allora fondamentalmente la porta comune è quella a cui dedicare il cavo nero mentre le altre due uscite si usano in alternanza diciamo quella di destra si utilizza per i volt, per la resistenza, per i picco ampere nonché per misurare gli hertz e per il test di continuità e per il test dei diodi mentre quello di sinistra, quindi con la sola A, si utilizza per andare a leggere gli ampere quindi diciamo per usarlo come amperometro quando si hanno grossi carichi quindi quando pensiamo di avere come risultato misure sopra l'ampere passiamo a questo puntale, quindi normalmente nel 90% dei casi quindi si utilizzerà in questa maniera con il cavo rosso sulla destra mentre se dovesse servire e se lo stanno usando per misurare gli ampere passate su quest'altro terminale che è garantito da un fusibile ovviamente di grandezza maggiore quindi è un fusibile da massimo 10 ampere e serve appunto per solo questa funzione mentre quest'altro ha un fusibile a 250 mA massimo e si utilizza per il 90% dei casi come vi dicevo ai due estremi c'è la modalità off quindi mettendolo a destra o a sinistra in fondo scala si va a spegnere mentre andando a ruotare si va appunto a selezionare la funzione allora partiamo per esempio metto qui in modalità voltmetro e vado a misurare il voltaggio di un pacco batteria a corrente continua quindi una classica batteria ovviamente va bene misurare qualsiasi batteria anche di formato diverso questo in realtà è un pacco batteria più grandino del solito ma insomma ovviamente potrei andare a misurare anche una batteria a stilo tradizionale ovviamente ok toccando gli estremi vedete abbiamo 7,97 volt in questo caso di corrente quindi in effetti la batteria è da 7,2 in questo caso essendo senza scarico senza carico è ovviamente leggermente più alto il voltaggio quindi questo è un classico esempio di misura diciamo di una corrente continua posso ovviamente utilizzare lo strumento anche per la corrente alternata quindi sarebbe quella di casa delle prese per capirci vado a prendere ecco qui ho messo una prolunghetta ho già collegato l'altro capo di questa prolunga direttamente alla spina di casa e andando a inserire i puntali all'interno della presa posso andare a misurare ecco qui vedete il voltaggio di casa quindi in questo caso eccoci qua siamo a 227 volt 226-27 volt a seconda insomma come cambia posso inoltre andare a misurare gli hertz dell'impianto quindi vado su hertz ecco qui e vedete in questo caso abbiamo 23,1 hertz di frequenza k hertz di frequenza quindi posso sapere anche la frequenza della corrente di casa volendo posso vi faccio vedere al volo come funziona questa qui è la funzione per i diodi quindi per andare a misurare i diodi attualmente purtroppo non ho portata di mano un diodo per fessarlo comunque serve per capire la polarità quindi qual è il polo negativo e per testare se fosse interrotto o se fosse sempre continuo quindi è utile per andare a controllare che il diodo effettivamente funzioni per svolga le sue funzioni insomma premendo il tasto function vedete cambia il simbolo qui in alto ecco non è facilissimo farlo vedere perché la luce purtroppo proietta un po' di ombre premendolo praticamente mettendo il simbolino del suono quando vado a far toccare puntali l'apparecchio emette un bip sonoro ed è utile quindi per andare a testare eventuali piste, circuiti e quant'altro per verificarne appunto la continuità quindi una funzione che si utilizza molto in elettronica mettendo in modalità ncv lo vado ad utilizzare come tester di presenza di corrente quindi se c'è diciamo un campo magnetico prodotto appunto da dei cavi elettrici questa parte dello strumento lo va a rilevare e basta avvicinarlo quindi a una parete a un cavo eccetera per vedere appunto se c'è tensione vi faccio vedere subito questo cavo essendo collegato alla spina di casa avvicinandole metterà un bip sonoro vedete anche il display lampeggia per segnalare appunto che c'è presenza di corrente quindi il cavo è alimentato è una funzione abbastanza utile anche se forse non è particolarmente maneggevole utilizzare lo strumento per effettuare queste letture esistono strumenti decisamente più piccolini e più pratici da questo punto di vista però insomma comunque è una funzione che c'è e non dà fastidio insomma assolutamente inoltre queste ultime tre tacche quindi quello con pico ampere, milli ampere ed ampere si utilizzano per andare a leggere quanto sta assorbendo un impianto, un circuito, un motore e quant'altro allora fondamentalmente si va ad utilizzare i puntali come se fossero appunto un cavo stesso del circuito quindi bisognerà interrompere uno dei due cavi e andare a collegare i puntali fra gli estremi del cavo tagliato così per andare a leggere appunto quanto è il passaggio di corrente e quindi quanto sta assorbendo quel circuito, quell'impianto, quel motore in quel momento per fare un test al volo ho preparato una piccola lampada led e diciamo ho già messo i cavi scoperti in modo da farvi vedere il risultato come funziona insomma vado ad accendere lo schermo così magari risulterà più leggibile vi faccio vedere, vedete qui ho interrotto questo cavo, vedete ho un cavo nero e qui continuo quello blu ho tolto l'interruttore e qui andrò ad effettuare la lettura diciamo del passaggio di corrente quando andrò ad alimentare questa lampada led allora, per settare lo strumento lo vado a mettere in mA in questo caso quindi vado a mettere il selettore su MA e vado ad utilizzare praticamente puntali per andare a chiudere il circuito quindi vado a mettere un puntale qui su un estremo e un puntale qui sull'altro estremo per andare a chiudere appunto il circuito e leggere praticamente il passaggio di corrente che va ad interessare questi cavi quindi vado ad alimentare il circuito ok, adesso ho collegato questo piccolo impianto direttamente alla spina di casa e quindi posso andare a interporre sul cavo interrotto i due puntali in questa maniera andrò a leggere in tempo reale quant'è l'assorbimento di questo circuito quindi questa cosa ovviamente può essere ripetuta con qualsiasi impianto allora, metto un puntale qui su un polo, un puntale sull'altro ecco qui, vedete che la lampada si è accesa perché appunto sono andato a chiudere il circuito e qui sul display vado a leggere che sta assorbendo 38,7 mA quindi in questo caso sto misurando appunto l'assorbimento della lampada che vedete accesa in questo momento che adesso si è appena spenta perché ho spostato i puntali quindi praticamente si va a interporre questo strumento per effettuare appunto la lettura in tempo reale dell'assorbimento di un impianto ovviamente questo non è il modo migliore di lavorare perché appunto ho fatto una cosa abbastanza volante ma giustamente era giusto per un esempio video e vi consiglio ovviamente di lavorare in sicurezza quindi su un banco con i giusti guanti per isolarsi e quant'altro quindi insomma assolutamente con la corrente non si scherza quindi stare attenti prima di effettuare questi test insomma comunque devo dire un buon apparecchio ben fatto, ben realizzato e piuttosto solido quindi devo dire un prodotto che vale i soldi pagati anche perché ripeto tutto sommato ha un prezzo piuttosto contenuto e devo dire che fa veramente tante funzioni molto carino appunto questo dell'assorbimento anche se ovviamente rispetto a una pinza amperometrica tra virgolette è meno pratico perché non ha appunto l'aspira ma bisogna andare a interrompere il circuito e usare i puntali per andarlo a chiudere comunque penso di avervi spiegato più o meno le funzioni principali di questo apparecchio e come al solito se avete dubbi o curiosità potete scrivermi sotto questo video grazie alla prossima, un saluto da Mariano